SI VOLA Altro al di fuori del rap Perché voglio essere conosciuto non soltanto per un unico genere musicale Ma per altri generi, ecco E poi ricordiamoci che in realtà il mio canale non si chiama World of Rap Ho detto anche nella descrizione del canale Però lo ribadisco per i nuovi Mi chiamo World of Music Quindi recensisco più musica possibile Ok che la maggior parte dei miei video sono principalmente al rap Ma semplicemente perché è il mio genere preferito E quindi è raro che a volte io mi metta a cambiare genere dopo genere Ritornando al discorso di prima che stavo facendo riguardo Quando io avrei recensito questa canzone Io l'avrei recensita sì alla fine del torneo UEFA Euro 2020 Ma il bello è che siccome è la team song appunto di UEFA Euro 2020 Me la sono già spoilerata Però ho intenzione appunto di fare una cosa particolare Ho intenzione di reagire al remix fatto dall'artista stesso Ovvero Martin Garrix Riprendendosi il meme che io avevo messo all'inizio del video Perché non so per quale motivo Ma gli italiani ogni volta che sentono Martin Garrix Pensano sempre a 130 Martin Garrix si vola Che effettivamente è anche un po' quello che penso io Ma siccome io sono anche un producer Io vedo Martin Garrix a livelli superiori ecco Ovviamente si parla sempre della musica pop elettronica Che è praticamente tutta un'altra cosa rispetto al rap O all'hip hop Infatti noi andremo a reagire a We Are The People Di sempre Martin Garrix Bono il cantante Degli U2 U2 Come cazzo si pronuncia? Vabbè Tu ovviamente Però U2 Non ho mai capito ragazzi Dieci anni che conosco questa band Non ho mai capito il nome Scrivetemi sotto nei commenti Qual è la vostra pronuncia Remix Official UEFA Euro 2020 Song Anzi Prima di partire Faccio un'altra premessa Molti sicuramente non sapranno neanche cosa penso Di Martin Garrix Ho detto prima che per me È una tra le tante fonti di ispirazione Per quanto riguarda la produzione Pop elettronica Però Vuoi fare un'altra doverosa premessa Ricordo Martin Garrix Che cosa ne penso? Anch'io come tanti altri Anzi no Come tutti quanti L'ho conosciuto grazie ad Animals Però quelle canzoni che mi piacciono di più di Martin Garrix Non sono proprio quelle Big Room Potentissime Quelle Electro House Potentissime da festival Anzi no Sono quelle Malinconiche Quelle Progressive House Ecco È quello che spero anche Di ascoltare all'interno di questo brano Se mai ci dovrebbe essere Perché sì La traccia originale Diciamo Non mi ha fatto impazzire Non mi ha dato quel non so che Di fiducia Di speranza Di energia Di forza Che dovrebbe dare Una qualsiasi team song Di un evento così tanto importante Che è UEFA Euro 2020 O un UEFA Euro in generale Dato che Quasi tutte le canzoni Che ho ascoltato Di UEFA Euro Erano pressoché Molto molto potenti E soprattutto pieni di speranza E ti fa anche un po' Entrare nell'ottica Di quello che è Il calciatore in questione Della squadra Che sta per partecipare Invece questa Non so come dire Mi ha lasciato un po' In birro Nel senso È una canzone di Martin Garrix In genere Molte canzoni Fatte da producer DJ o comunque Sono preso che tutte quante Piene di energia Piene di speranza Invece Martin Che ti prende Quindi Sono molto curioso Di ascoltare questo remix Avevo anche intenzione Di analizzare Dopo ovviamente Tutta quanta analisi Della produzione dietro Il testo Perlomeno tradurlo Perché Penso sia Un remix Che venga rifatta Soltanto la base Non penso che abbiano rifatto Anche qualcosa Di ricordo il testo Quindi dopo Vi lascio anche con la traduzione Ovviamente letta da me Già il tempo mi pare Molto molto più veloce Rispetto a quello Della canzone originale Quella della canzone Se non sbaglio Era tra i 120 O 124 bpm Per quanto era lenta Invece questa Penso Ok La strumentale iniziale È bene o male La stessa Con i sessi pattern Lo stesso riverbero Lo stesso mixing Solo diretta Secondo me Tra i 125 bpm E 128 bpm E se non sbaglio C'è anche qualche piccolo mixing Alla voce del vocalista Che in questo caso Rimane sempre Bono Ok che Bono Sembra tipo una parola Il romano Bono Scusate per tutti i fan Che abitano a Roma Bono Mi pare molto più Riverberata Con un mixing migliore Sempre ovviamente Per riprendere Quello che è La strumenta L'originale sotto Ovvero Un preset pieno Di riverbero Per cercare Ecco Di dare Molta più energia Ok adesso Parte Le drums Drums particolare Perché Da quel che sento Dato che io non so Che le cuffie Sto ascoltando soltanto Dal computer Perché Non voglio avere Tanti problemi Col copyright Ma questo qua Dovrebbe essere Una sorta di Clap Ibrido Non so Non so se voi Riuscite a sentire Anche attraverso Il microfono Questo qua Però Non il classico Clap Da EDM In questo caso Il classico Che utilizza Martin Garrix Per fare le canzoni Però un clap Ibrido Un po' come Se noi stessimo Vivendo una sorta Di inno allo stadio Che c'è una persona Dopo persona Che fanno Perché da come È impostato Questo clap Sembra una roba Vissuta Piuttosto Che una roba Semplicemente Riverberata Editata 300 miliardi di volte Su FL Studio Dal computer Ok questa è Più o meno La stessa Siccome è un remix Mi aspetto Un drop Con un miglior mixing Ricordo alla melodia Che la melodia Un po' come Ho già detto prima Non dava quel feeling Di speranza Di potenza Che dovrebbe dare Una canzone Di UEFA Melodia troppo Ibrida Che va dritta Al punto Che non ti lascia Effettivamente In quello che dovrebbe Dare un mood Di una canzone Però Buon build up Sicuramente meglio Dell'originale Sì Allora Queste note Utilizzate nel drop Sono pressoché Le stesse Anzi Anzi no 100% le stesse Che vengono utilizzate Nell'originale Però con un buon mixing E riesco anche A sentire Una sorta di vibe Come un progressive Vouse Della vecchia scuola Della musica elettronica Allora Con questa Top melody Sotto un'altra melodia Per rendere tutto Molto più vasto Molto più Orecchiabile Soprattutto se sentito In cuffia E anche il classico Progressive Vouse Type kick Che noi Possiamo sentire Praticamente in qualsiasi Sample pack Di questo sottogenere Quindi Posso dirlo Già adesso Che non siamo Neanche a metà canzone Questo remix È meglio Dell'originale Secondo me Ok qui c'è Lo snap Solo non ibrido Rispetto al clap Che c'è stato prima Diciamo che Andando avanti La produzione Credo Perché il pezzo Non è ancora finito Credo che sia Più o meno la stessa Rispetto a quella Che abbiamo sentito Per tutti i primi Minuti e mezzo Quasi due Della canzone Però ho mandato In loop Ovviamente Che non è una critica Anzi Anche nella canzone Originale Ci sono cose Mandate in loop 300 miliardi di volte Piuttosto che Riprodurre centinaia di volte Sono sia contento Che sia stato fatto Un remix Ma allo stesso tempo Sono anche un po' Combattuto Da questo remix Ma non Per quanto riguarda La produzione Ma per quanto riguarda Questo remix Che non è stato Sfruttato a dovere Secondo me Questo remix Doveva già essere La canzone principale Ed è un gran peccato Che molte persone Non sappiano Della sua esistenza Dato che Da quel che sto controllando La canzone originale Ha più di 50 milioni Di streaming Ovviamente essendo Una canzone così tanto grande Di un evento così tanto grande Invece questo remix Ha soltanto 2 milioni Non va bene Non va bene Io ragazzi ho bisogno Che la qualità sia popolare Ok Anzi la cosa più strana Non è quella che io ho detto 5 secondi fa Esattamente 5 secondi fa Ma il fatto che Questo remix È stato rilasciato Prima che iniziasse UEFA Euro 2020 Perciò io mi chiedo Il perché Questa canzone Così tanto potente Così tanto energetica Con un mixing Che ripeto È sempre migliore Dell'originale Non l'abbia una scelta Appunto questa Come team Originale di UEFA Euro 2020 E non La versione originale Di questo remix Probabilmente perché È troppo Da festival Perché già il fatto Che uno sente Progressive House Pensa già A robe tipo Da festival Di andare in discoteca E robe del genere È una cazzata Secondo me Perché Se non sbaglio Nella semifinale Potrei sbagliarmi però Nella semifinale Prima che iniziasse la partita Sono state suonate Pressoché Quasi tutte le canzoni Progressive House Di Martin Garrix O perlomeno quelle più famose Quelle più conosciute Tipo Iron Life No Sleep Forever E tante altre Ma direi di fare Quello che ho già detto prima Ovvero di andare un attimo A guardare Quella che è La traduzione Originale di questo testo Ovviamente noi andremo Su Genius Perché Potrei effettivamente Trovarlo attraverso Un commento su YouTube Però adesso YouTube Ha messo questa cosa Che Le canzoni musicali Che vengono pubblicate Su YouTube Dagli artisti Non possono più essere commentate Bravo YouTube Bravo YouTube Che aggiorni tutto 300 miliardi di volte Avete presente Il punto delle video Dove io vi ho detto Che avrei fatto sentire Senza problemi La traduzione di questo testo Beh Quando io lo stavo facendo La videocamera Si è spenta